40 lavoratori contrattisti del comune di Castellumberto firmeranno a breve il contratto a tempo indeterminato e dunque concluderanno il loro stato di precarietà. Lo stesso succederà per 36 contrattisti in servizio al comune di Sinagra. Per la Cigelle Funzione Pubblica, che ha seguito le vertenze di queste maestranze, c'è grande soddisfazione. Al comune di Castellumberto i lavoratori sono così suddivisi. 25 appartengono alla categoria A, cioè l'obbligo scolastico e 15 alla categoria C, il diploma di scuola media superiore. Nel rispetto delle normative nazionali e regionali, comune e sindacato hanno creato i presupposti perché si arrivasse alla stabilizzazione, dalla legge regionale 24 2010, dotazione organica e fabbisogno, piano di fuoriuscita ed espletamento del concorso pubblico, alla 27 2016, storicizzazione del contributo regionale pari all'85% del costo delle retribuzioni per tutta la vita lavorativa all'immediata trasformazione per i vincitori di concorso e prove selettive dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, così come previsto dal decreto Madia. Castellumberto è un comune di circa 3.000 abitanti, il quale, grazie alla buona e sana amministrazione del sindaco Vincenzo Lionetto Civa, ha dichiarato Lino Pizzino della Cigelle Funzione Pubblica, è riuscito ad essere virtuoso in regola con il patto di stabilità interno e con le spese del personale, ben al di sotto del 50%, così come previsto della normativa nazionale e regionale.